Nelle province di Foggia e Barletta, Andrea Trani, che mostravano nel loro complesso per i 21 indicatori una situazione prossima alla fascia arancione, abbiamo selezionato quei comuni la cui incidenza era 1,3 volte maggiore rispetto alla media regionale. Per il resto dei comuni che cadevano in province spiccatamente gialle, abbiamo selezionato Altamura e Gravina, che avevano un'incidenza due volte maggiore quella regionale. E' quanto spiega in un post pubblicato sui social l'epidemiologo e assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco, chiarendo i contenuti dell'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che inserisce da oggi fino al 14 dicembre 20 comuni pugliesi distribuiti in tre province, Foggia, Batte e Bari, in fascia arancione. Il resto della regione invece è in zona gialla. Chi mi conosce e la premessa di Lopalco sa che non ho mai plaudito la scelta di dividere le regioni italiane in fasce di rischio per diversi motivi, tre principalmente. Il primo perché le regioni non sono in sincronia, secondo perché i famosi 21 indicatori non si adattano ad essere la base di una decisione politica su chiusure e limitazione di movimenti, terzo perché la comunicazione intorno al sistema dei colori non è stata felice, quindi rosso equivale a iniziamo a preoccuparci, arancione il problema e la mancanza di posti letto, giallo e liberi tutti. Un altro limite del semaforo della pandemia è che rispetta necessariamente i confini amministrativi regionali, i virus però i confini non li vedono nemmeno e non vedono i colori, aggiunge e semplifica. La Puglia è stretta e lunga, dal Gargano al Salento le differenze demografiche, economiche e strutturali sono davvero importanti e molte di queste rappresentano importanti determinanti per la diffusione virale. Chi conosce i dati dal dettaglio capisce immediatamente come una classificazione su base regionale in un tono unico di colore è molto limitante. Se fasce di colore devono essere a quel punto bisogna essere precisi. Da qui la decisione, in accordo con sindaci e presidenti di provincia, e dopo aver sentito il ministro della Salute di applicare misure da fascia arancione ad un gruppo di comuni che di giallo avevano poco, prosegue. Giusto? Sbagliato? Non saprei. Ma almeno è stato un criterio oggettivo e condiviso. Resta il fatto che personalmente, conclude Lopalco, spero vivamente che il sistema del semaforo dopo la pausa natalizia venga messo in soffitta. Il virus è dal tonico, ricordiamocelo.